Io vorrei chiedere a Roberto Scappinato, che come sapete è un magistrato di Palermo, che conosce tante di queste difficoltà, tanti di questi problemi, di parlare e di dirvi i suoi pensieri su queste problematiche e queste cose che vi hanno raccontato Gianni, Peter e Marco. Roberta. Uno dei più raffinati uomini di potere della storia occidentale, il cardinale Mazzarino, gesuita di origine italiana, consigliere del re di Francia Luigi XIV, solleva a ripetere Il trono si conquista con le spade e con i cannoni, ma si conserva con i dogmi e con le superstizioni. Questa massima riassume, io credo, in modo magistrale la necessità del potere antidemocratico e autoritario di plasmare il sapere sociale in modo da alimentare imposture funzionali alla sua perpetuazione. Il lavoro della costruzione delle imposture è affidato da sempre agli intellettuali e costituisce una delle loro principali fonti di reddito. L'Italia è sempre stata una straordinaria fucina di intellettuali costruttori di impostori al servizio del potere. E non è un caso che uno delle massime icone nazionali resti Niccolò Macchiavello, prototipo nazionale e intellettuale che invece di smascherare l'impostura del potere ha come massima ispirazione quello di divenire il consigliore del principe di turno anche se come nel caso di Cesare Borgia si tratta di un lestofante capace di ogni nefandezza, pluriumicida e straggista. In questo paese, patria elettiva di impostori di ogni genere, Barbacetto, Gomez e Travaglio sono tra i pochi intellettuali che sono rimasti a svolgere un importante ruolo di supplenza civile e di vigilanza democratica. supplenza civile nel ricostruire con meticolosa pazienza la memoria di fatti storici che sono oscurati o distorti dalla televisione di Stato, dalla televisione commerciale o dagli apparati culturali di regime. Vigilanza democratica nei confronti di un potere ogni giorno più arrogante che alimenta la pratica dell'omertà di massa e riduce al silenzio chiunque rifiuti di addinarsi. Il generale Videla, sanguinario dittatore argentino, solleva ripetere la memoria è sovversiva. Aveva ragione. La memoria è come un indice puntato contro i crimini del potere che ha necessità di riverginarsi cancellando dalla memoria collettiva i fatti storici. In questo senso i trautori di questo libro io credo possano definirsi dei sovversivi. Mi coglie il dubbio che il loro chiamarmi a partecipare alla presentazione di questo libro sia una sorta di chiamata in corraità da sovversivi a un sovversivo quale io sono stato a volte definito per il fatto che nel mio ruolo istituzionale da anni mi occupo di ricostruire la memoria storica di mispatti che non riguardano i soliti provenzano di turno ma i loro eccellenti protettori politici senza i quali questo paese si sarebbe liberato per la mafia da più di un secolo. Proprio per il ruolo di supplenza civile al quale ho appena accennato questo libro si sovraccarica secondo me di significati e di chiavi di lettura. sarebbe riduttivo leggerlo come un accurato resoconto di alcuni dei più importanti processi di corruzione degli ultimi anni e molto di più e il referto clinico della dissoluzione dello stato democratico di diritto e della sua balcanizzazione nel popolo delle tribù e la cronistoria del declino di un grande paese e della sua regressione verso la modernità e il ritratto di Dorian Gray di una delle classi dirigenti più rapaci della storia europea e soprattutto un libro di storia indispensabile per comprendere il passato il presente il futuro forse la mancanza di futuro di questo paese e qui sta una profonda anomalia di questo libro che non è certo addebitabile ai suoi autori un libro nel quale si narrano delle vicende criminali non dovrebbe assumere il respiro della grande storia nelle democrazie mature la criminalità non fa storia è un capitolo marginale specialistico che interessa soltanto criminologi penalisti e qualche appassionato della materia in Italia invece leggendo questo libro se ne ha una significativa conferma la storia nazionale quella con la S maiuscola è inestricabilmente infrecciata con la criminalità delle sue classi dirigenti nessuno storico serio potrebbe ricostruire la storia di questo paese spiegare perché la storia a un certo punto ha assunto una certa direzione invece che un'altra perché sono state emanate certe leggi perché sono state effettuate importanti modifiche costituzionali senza tenere conto del modo in cui contemporaneamente si è evoluta nel tempo la criminalità delle classi dirigenti per restare solo sul tema della corruzione quanti oggi ricordano per esempio che la Banca d'Italia fu istituita a seguito dello scandalo finanziario del crack della Banca Romana nel 1892 un istituto autorizzato allo Stato a stampare banconota che stampava banconote false e che elargiva finanziamenti senza garanzie foraggiando un enorme suolo di parlamentari senatori membri della famiglia reale ministri presidente del consiglio e vi pare forse una coincidenza che a distanza di più di un secolo la recente legge di riforma della Banca d'Italia che rende temporaneo il mandato del governatore della Banca sia avvenuta a seguito di un altro scandalo che troverete descritto nel libro quello della scalata alla Banca Nazionale Lavoro all'Anto Veneta a Corriere la Sera che ha visto ancora una volta protagonisti una lega brigata di speculatori di cui patrimonio non si ha la possibilità di ricostruire l'origine insieme a senatori a deputati a un ex presidente del consiglio quello che ho appena citato è appena uno dei tanti esempi possibili perché via via che si procede nella lettura di questo libro ci si rende conto come eventi istituzionali come l'emanazione o la mancata emanazione di alcune leggi la privatizzazione di ente di Stato la realizzazione di alcune riforme istituzionali sono tutti eventi che al di là delle motivazioni ufficiali ammannite all'opinione pubblica hanno una segreta origine in vicende criminale e in transazioni di vertice tra i potentati nel quale si articola la classe dirigente l'irrazionalità dall'ora è spiegabile di taluna leggi in palese contrasto con l'interesse pubblico e con i più elementari principi di buona amministrazione è irrazionale solo all'apparenza solo se si tenta di interpretare la legge alla luce delle sue motivazioni ufficiali si pensi per citare un solo esempio alla recente legge per l'indulto che ha ingolfato gli uffici giudiziari con milioni di processi inutili perché riguardano reati indultati per i quali non potrà essere applicata la pena che ciò nonostante dovranno essere celebrati costringendo a magistrati un lavoro assolutamente inutile e frustrante come scavare di ciposse e riempirla subito dopo solo se si ricostruiscono le vicende criminali che hanno preceduto e che sono state contemporanee all'emaniazione della legge dell'indulto è possibile individuare in controluce la razionalità occulta di quella legge una razionalità politica non apertamente confessabile dunque destinata a restare nello sceno nell'obscenum nel fuorisceno la razionalità politica inconfessabile era osservano gli autori lo scambio di prigionieri cioè garantire l'impunità a imputati eccellenti a imputati protetti da potenti a gole profonde che se avessero parlato avrebbero potuto tirare giù tutti i santi dal paradiso per esempio se la necessità era sfollare le carceri come si spiega l'estensione dell'indulto a un reato di mafia allo scambio politico elettorale tenuto conto che alla data dell'indulto non c'era neanche una sola persona in carcere per questo reato che in tutta Italia c'erano soltanto dieci processi pontenti non c'è nessuna risposta possibile sul piano giuridico non c'è nessuna